Nelle scuole sondriesi tornano a diffondersi i pidocchi. La loro presenza è stata accertata nei giorni scorsi nell'Istituto Comprensivo Sondrio Centro, che ha diramato una comunicazione per invitare le famiglie a controllare in modo accurato i capelli dei loro bambini e nel caso di esito positivo a contattare il pediatra, il medico generale e gli operatori sanitari referenti per la profilassi delle malattie infettive del distretto sociosanitario. La pediculosi non rappresenta un serio pericolo per la salute, ma è molto fastidiosa per l'intenso prurito provocato ed è facilmente trasmissibile. Per questi motivi è necessario adottare corrette strategie di intervento allo scopo di evitare o quantomeno limitare il suo diffondersi. Interessate al problema sarebbero anche altre scuole del Sondriese, oltre a quella di cui abbiamo avuto notizia, ma sul punto non c'è stato possibile avere precisi ragguagli dal Servizio di Sanità Pubblica dell'ATS della Montagna, da noi contattato. Si ricorda ai genitori che è necessario che il medico accerti la diagnosi per la segnalazione all'Agenzia Sanitaria Competente che i bimbi vengano sottoposti a trattamento. È anche necessario siano informati i genitori degli alunni che hanno avuto recenti contatti con il piccolo affetto da pediculosi e che tutti gli effetti personali siano trattati. Ad esempio occorre lavare la biancheria da letto e quella personale in lavatrice a 60 gradi e ciò che non può essere messo in lavatrice va lavato secco, conservato per 10 giorni, senza utilizzo in sacco di plastica. Vanno lavate anche spazzole, pettini con detergenti, dopo averli lasciati per 10 minuti in acqua a 60 gradi. La disinfestazione degli ambienti non serve perché i pidocchi vivono e si riproducono solo sull'uomo. Per prevenire l'infestazione è importante lavare regolarmente i capelli, almeno due volte a settimana, pettinare tutti i giorni, tenere raccolti quelli lunghi. Si ricorda che in presenza di casi di sospetta pediculosi, la normativa prevede l'obbligo da parte dei dirigenti scolastici di disporre la sospensione della frequenza dei bambini affetti fino all'avvio del trattamento disinfestante.